Nell'Italia che cercava di ripartire dopo i dolori e le ferite della Seconda Guerra Mondiale, l'Andrea Doria, il varo dell'Andrea Doria rappresentò un motivo di orgoglio per la bellezza del transatlantico ma anche per le procedure e le norme di sicurezza. È importante sottolineare questo aspetto nonostante sia stata poi oggetto di una tragica fine per una collisione in mare, perché voi pensate nell'incidente con la Stockholm morirono 52 persone, 6 erano a bordo della nave svedese, le altre sull'Andrea Doria ma quasi tutte concentrate nella zona delle cabine dove si infilò la prua della nave svedese. Il coraggio, l'abilità dell'equipaggio dell'Andrea Doria permise di mettere in salvo appunto la quasi totalità degli altri passeggeri. Un coraggio, un'abilità che furono riconosciuti soltanto dopo diverso tempo ma un riconoscimento opportuno perché mise davvero in evidenza un'abilità e una perizia tutte italiane. Più delle mie parole però può spiegarlo bene una visita che vi consiglio di fare al Museo del Mare qui a Genova, la città dove l'Andrea Doria è stata varata. Ebbene, c'è ricostruita tutta la vicenda, compresa la tragedia di questo transatlantico e proprio anche il ponte, l'inclinazione del ponte che in quelle terribili 11 ore in cui la nave si coricò su un fianco prima di inabissarsi a largo delle coste americane. Ebbene, provate a salire su quel ponte inclinato. È già difficile stare in piedi, potete immaginare cosa volesse dire organizzare delle operazioni di soccorso.